Il Parlamento ungherese si accinge a votare la proposta di legge eloquentemente denominata Stop Soros e il settimo emendamento della Costituzione. L'emendamento costituzionale, cioè la virata più importante, decreta il divieto di insediare popolazioni straniere in Ungheria, oltre alla creazione di un sistema parallelo di tribunali che tratti casi relativi allo Stato e all'amministrazione. L'emendamento limita inoltre il diritto di riunione vietando di fatto le manifestazioni anche in ambienti privati. Il pacchetto Soros è iniziato come una legge che limita il funzionamento delle ONG, ma la bozza del testo è completamente cambiata. Ora è essenzialmente una modifica della legge penale che rende il sostegno all'immigrazione un autentico crimine. Per il Premier Orban lo Stop Soros è stato tacitamente approvato dagli elettori.